L'Aurora è partita con i Cuceri. E c'è un gruppo di atleti di casa che si è posizionati in maniera compatta. Siamo tra poco al passaggio di 1.22 con la segnazione tra primo e l'unico suono della campagna. Punti dal prossimo giro fino alla termine di questa gara. Vogliamo ritirare i numeri dell'americane presso la segreteria. 48, 498 primi punti assegnati di questa gara. Punti sul passaggio di 1.20, 76, 46. Punti di 1.19 passaggio. 508, 76. Stiamo al passaggio del punti di 1.18. 42, 48. Punti di 1.17 passaggio. 42, 430. Punti di 1.19 passaggio. Punti di 1.19 passaggio. 42, 430. Punti di 1.19 passaggio. 42, 3.19 passaggio. 43, 430. Che parte? Per gli esperti dell'atleta del bambinese? 44, 45, 45, 45, 45, 45. Sul passaggio appena concluso. ultimi numero 14 sul prossimo passaggio 48, 431 vieniamo in trattempo numero 405 salvo 6, 2013 490, 152 ammolita 3, 431 430 e 41 al passaggio salvo meno 11 sul prossimo passaggio ed ecco arrivare i punti numero 11 46, 76 stiamo passando i punti numero 10 430 e 41 al passaggio 430 e 41 al passaggio 430 e 41 al passaggio vai. siamo al 1ato passaggio 430 e 46 dai ceci Punti di meno 7, 48, 40 metri a mezza. Adesso, 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 si porta in terza posizione, Robin, lanciando Sbam 2,96 metri a mezza. Iscriviamo a camminare il Punti di meno 7, 48. E è la terra che si porta a condurre in questo momento. Punti di meno 5 al passaggio. . 48, 48, 48, 48 48, 48 48, 48 48, 48 48, 48 48, 48 48, 48 49 49 50 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 52 50 50 51 52 52 51 53 52 52 55 58 52 Grazie.